Buonasera, siamo partiti. Ci siamo, ci siamo, ok, ecco perché, va bene, siamo pronti, direi penultima, penultima, ma anche in agosto andiamo in ferie o no? Vediamo, vediamo, vai tu che io devo un po' fare il punto della situazione. Allora, intanto ciao a tutti, siamo, per chi ci segue, non da Bologna, qui c'è un caldo infernale, siamo tutti un po' provati da questa temperatura incredibile, per fortuna in libreria abbiamo l'aria condizionata, ma insomma c'è comunque da fare e da soffrire. Allora, inizio io, anche perché a Margherita questa sera ti lascio prima. Mi sa che andiamo breve, stasera non abbiamo tante cose. Stasera siamo brevi, anche perché già le uscite si sono molto diradate questa settimana, l'arrivo, diciamo, classico settimanale è stato più o meno la metà dei soliti arrivi, quindi vi presentiamo qualche cosa di nuovo, però tutto sommato abbastanza stringato. Tra l'altro Margherita stavo guardando che, ah, è il nuovo collano di Sellerio, hai visto che sono arrivate le due coppie stasette? Sì, sì, ho acceso qua. Perfetto. Allora, vi faccio vedere solo una cosa per bambini questa sera, perché è un album veramente bello, che merita tantissimo. Si chiama Alba, di Daniel Ferre e illustrazioni di Elena Rotondo, edito da Orecchio Cerbo. Ed è un piccolo viaggio notturno, con illustrazioni veramente magnifiche, che raccontano di questa passeggiata notturna. Il bambino dice, a quest'ora di solito sto dormendo, questa sera no, oggi sono sveglio, questa notte sono sveglio, perché il padre lo accompagna a fare una passeggiata. Lui non sa perché, non sa dove andrà, segue il padre, segue il padre al buio, fino ad arrivare ad un bosco, dove si sentono rumori in lontananza, ha anche un po' di paura, comunque, insomma, sempre dietro al padre, non capisce quale sia il senso di questa passeggiata, lo scoprirà solo, senza parole, senza che il padre abbia bisogno di spiegarglielo, quando inizierà la luce. E pian piano le cose si disveleranno, il bosco, la natura, gli animali, diverranno visibili in questa luce bellissima dell'alba matutina. Quindi è proprio la scoperta del giorno, non ci sono, è proprio delicato e spiegato attraverso delle bellissime immagini questa scoperta dell'alba da parte di un bimbo, passaggio dall'oscurità alla luce. Molto, molto bello. Piccolino di formato, ma veramente prezioso. Alba per roletchia cerba, perché anche lui difficilmente sbaglia. Vuoi introdurti con un saluto, con una breve introduzione? A me che nessuno mi conosce, ovviamente. No, allora, ho qui due copie, appunto, che ci sono arrivate da Sellerio, ma poi in libreria non abbiamo solo queste, abbiamo tutti i titoli che sono usciti in questa prima buttata del 15 luglio, perché Sellerio ha lanciato, Sellerio è una casa editrice che quest'anno festeggia, o ha festeggiato l'anno scorso, i 50 anni. Nonostante questo, è una, secondo me, delle più dinamiche e attente alle cose nuove e a cercare di recuperare anche i classici, a scoprire nuovi scrittori, scrittrici, sia italiani che stranieri. Quindi, insomma, è veramente un esempio, secondo me, nell'editoria indipendente fortissimo. E cosa ha fatto? La settimana scorsa ha lanciato una collana nuova, appunto, questo è sempre molto bello, quando succede, e soprattutto succede in una casa editrice, chiamiamo, e si chiama Promemoria, perché cosa va a fare? Va a ripubblicare in edizione economica con una copertina un po' diversa dai soliti Selleri, ovviamente li avevo qui, li ho già persi. Eccoli, quelli che ho preparato qua. Va a ripubblicare in questa edizione, tra l'altro un po' più grande dei Selleri classici piccolini blu, ha 10 euro dei titoli che fanno un pochino la storia del catalogo Sellerio e che sono diventati irreperibili o comunque molto difficili da trovare. Ne hanno pubblicati, mi sembra, sei per adesso, esatto. Quello che è in mano è, dov'è, 18 libri, l'ultima provincia di Luisa Adorno, ed è stato ripubblicato perché, appunto, è il centenario di Luisa Adorno quest'anno, e fra l'altro lei scriveva con pseudonimo, ed è, appunto, un romanzo di questa scrittrice, pubblicato nel 62, come prima uscita, che racconta le vicende del suocero, prefetto della Repubblica in Sicilia l'indomani della guerra, ed è la prefettessa sua moglie. E si chiama, appunto, l'ultima provincia ambientato nella Italia post-bellica, ed è anche, fra l'altro, una sua autobiografia. Quindi Sicilia, anni 50, bello. Bellissime copertine, fra l'altro, progetto grafico di Olivia Sellerio. L'altro che ho in mano è La fine nota, che è ricensito, fra virgolette, o comunque esce con una nota di niente po' di meno che Leonardo Sciascia, che è stato uno dei grandi padri di Sellerio, insieme alla famiglia, appunto, e nella presentazione di questo volume, che fece lui al tempo, dice fin dalle prime pagine mi pare di qualità diversa, di livello più alto, era allora fortemente affezionata agli scrittori americani, da Steinbeck a Coldwell a Faulkner a Kane, e mi pare che in quella pleiade si accendesse il lumicino del giovane Holiday Hall. Questo scrittore americano ha scritto in vita due romanzi, tra gli anni 40 e gli anni 50, ma di lui non si sa assolutamente nulla. Cioè, non c'è più traccia, diciamo, di lui negli archivi, neanche del suo editore. E questo è un poliziesco, un noir, ci dice Sciascia, molto bello, io non l'ho letto, personalmente, questa sarà un'ottima occasione per leggerlo, uscito nel 49 per Simon & Schuster, e nel 90 per Sellerio la prima volta, e lo ripubblichiamo, lo ripubblicano adesso, quindi noi lo ritroviamo in questa edizione nuova del Pro Memoria. Insieme a questi... Certo che Sellerio non blu mi fa un po' impressione, però sono molto bello. Sono fighissimi, comunque. Solo 10 euro, appunto, dicevo. E' uscito in questa edizione anche un libro di Colin Dexter, un altro autore bandiera di Sellerio, un libro di Alicia Gimenez Bartlett, altra autrice amatissima, un libro, il primo, se non sbaglio, di Rocco Schiavone, sì, Pista Nera, ma anche quello di Dexter è il primo della serie di Morse, mentre Uomini Nudi, invece, è uno di Gimenez Bartlett, ma non della Pedra. Ok, e quindi dicevamo Pista Nera, e poi, ultimo, Stivo, Ferragosto in Giallo, che è una delle raccolte che Sellerio periodicamente fa con tutti i suoi giallisti, di nuovo, arriva in versione economica, 10 euro, cioè Camilleri, Giammaro Costa, Gimenez Bartlett, Malvaldi, Manzini e Recami. Quindi, niente, poi questi sono i primi sei appunto uscite e piano piano ce ne saranno altre. Bravi, dicevo che appunto Sellerio è uno tra gli editori più anziani, ma uno di quelli più attenti alle nuove esigenze. Sì, sì, assolutamente. Proprio bravi, bravi, bravi. Si sono anche saputi rinnovare, ma anche nel tempo, se pensi come poi sono usciti un po' dalla dipendenza di Camilleri, trovando tanti nuovi autori, strade nuove, veramente, beh, insomma, quando uno sa fare l'editore, si sa. Allora, vi parlo di due cose, prima di lasciare, di salutarvi e lasciare la parola a Margherita. Allora, uscita direi importante, era anche abbastanza attesa, se ne è già parlato sui giornali da almeno 15-20 giorni, e sono stati ritrovati degli scritti inediti di Simone de Beauvoir, e lì pubblica l'Orma, che tra l'altro, con un testo introduttivo di Anne Ernault, autrice Orma in Italia, e Anne Ernault, ovviamente, che può essere considerata un'erede di Simone de Beauvoir, sia per un po' le posizioni di racconto della questione femminile, del ruolo delle donne all'interno della società, ma comunque anche lei ha sempre dichiarato di rifarsi a Simone de Beauvoir, ma credo che tanta narrativa contemporanea, tanta scrittura di donna si rifaccia a lei, perché è stata una scrittrice, narratrice, filosofa e una grande esponente delle questioni femminili e che ha sicuramente rinnovato o comunque importantissimo il suo pensiero novecentesco su questi temi. Infatti il libro si chiama La femminilità, una trappola, prende spunto da uno dei racconti, cioè da uno dei testi, ci sono testi che sono trascrizioni di conferenze che lei ha tenuto, articoli di giornale, insomma scritti vari, che lei ha scritto tra il 27 e l'83, quindi con anche un arco temporale molto ampio. non ricordo l'essi che sono stati ritrovati anche abbastanza casualmente questi scritti, tant'è comunque vengono pubblicati, Simone de Beauvoir e chi è interessato a questi temi non credo possa prescindere da questo libro. Rimango in casa Orma, non ne parliamo spessissimo ma ogni tanto è giusto farlo, perché era uscito già un paio di settimane fa questo piccolo libro che mi aveva subito incuriosito anche perché ha una copertina bellissima. Poi era rimasto un po' lì, oggi ci ho messo un po' il naso dentro, mi sono letta 50 pagine senza tirar sul naso perché è molto coinvolgente e anche molto molto ben scritto. Lui è Paul Guimar, è un autore francese che è morto nel 2004, è nato nel 21, è stato un giornalista, un romanziere, sceneggiatore anche di film o di opere teatrali, insomma, un intellettuale a tutto tondo, pare, mi conferma anche Margherita, che questo sia un long seller in Francia, cioè è diventato proprio un classico. Un film tra l'altro. Due film, ci hanno tratto addirittura. È stato pubblicato per la prima volta nel 67 in Francia e poi è sempre stato pubblicato come diventato ormai un classico. Sono stati tratti ben due film, uno onorevolissimo con Romy Schneider e Michelle Piccoli e poi hanno provato a rifare un rifacimento gli americani nel 94 con Richard Gere e Sharon Stone che pare sia stata una roba orribile di cui nessuno si ricordi. Io non mi ricordavo assolutamente di un film con Richard Gere e Sharon Stone. Bene. Detto questo il libro che è proprio un racconto lungo racconta la storia di un uomo di mezza età 44-45 anni che sta percorrendo sulla strada nazionale sta facendo un viaggio di lavoro deve fare 150 km per andare lui è un avvocato deve andare a parlare con un collega per una per una questione legale e intanto che guida è una persona che guida molto quindi molto abituato a stare in macchina anche sopra pensiero ascolta la radio e si butta sente un po' il profumo dell'erba tagliata fuori perché era piovuto da poco quindi c'è l'odore dell'erba che lo rimanda un po' nei ricordi e e niente a un certo punto può capitare che ti distrai che ti accendi una sigaretta che ascolti la radio si distrae la macchina sta andando un po' forte e ha un terribile incidente e il seguito del libro è il senso di cosa nella vita ti può succedere in un secondo in cui tu ti sei un attimo distratto o comunque la fatalità ti ha portato sulla strada qualcosa che ti sradica completamente tutti i riferimenti tutte le certezze e tutto e va avanti tra ricordi dell'infanzia che lui ha dopo l'incidente e appunto una realizzazione di quello che può essere il cambiamento dato da questo avvenimento storia quasi al limite del banale però scrittura molto molto intensa molto concisa però veramente tanto tanto fruibile quindi sono tanto curiosa di continuarlo mi sembra veramente bello proprio molto molto poi si legge davvero in un'ora Paul Ghimar le cose della vita per l'orma poi l'orma insomma è abbastanza una garanzia fanno libri belli quindi difficilmente ci sono sciocchezze quindi io Marghe ti lascio finisco saluto e alla prossima stavola ciao parla stasera devo andare e anch'io sarò molto breve volevo dare altri due consigli Keller data la campagna sconto che c'è fino al 9 agosto sta andando molto bene suppongo perché molti libri insomma sono mezzi non si trovano quindi ho scritto a Keller in persona per averli adesso sto aspettando che me li invii quindi se volete aderire alla campagna per avere il 20% di sconto sul catalogo e ordinato dei libri dovete avere un po' di pazienza perché li stiamo aspettando anche noi alcuni titoli altri tipo questi due ci sono e allora un saggetto saggetto un romanzo vero non saprei neanche come chiamarlo dico saggetto non in modo dispregiativo ma per non fare paura con la parola saggio che allontana sempre un po' e anche perché è piuttosto corto l'ho letto l'estate scorsa lo ritiro fuori perché secondo me è molto carino si chiama terra di nessuno di philip droge credo si pronunci così lui è un autore di groeningen quindi olandese i paesi bassi e ha scritto questo libro su uno stato appunto un piccolo stato indipendente che si chiamava Moresnet o Moresne che è vissuto una persona che ha avuto una vita di cento anni più o meno tra il 1815 data il congresso di Vienna e la fine della 1919 insomma con i pati Versailles dopo la prima guerra mondiale perché praticamente nella ridistribuzione delle terre post-Napoleone ci si è dimenticati di questo micro pezzo di terra tra il Belgio i paesi bassi e la Germania al tempo tra diciamo ai margini dell'impero prussiano questo stato diciamo si è organizzato e ha avuto il suo nome la sua bandiera e la sua moneta e ha iniziato appunto una vita propria grazie a degli industriali che ci hanno investito cioè è una storia epica che dura cento anni ed è la parabola appunto di questa nazione indipendente ovviamente poi avere lì uno stato che avesse le proprie regole dove le tasse non valevano le regole doganali erano particolari non c'era il fisco e così via chiaramente ha iniziato ad attirare l'attenzione delle grosse potenze vicine ed è quindi poi durato molto poco però per quel che è durato è stata veramente un'esperienza molto interessante da leggere adesso centinaio di anni dopo e e Droghe devo dire lo racconta in modo veramente accattivante non sembra di leggere un cent'anni di storia sembra veramente di leggere un'epopea romanzata in un romanzo di avventura dove il protagonista invece di essere una persona è un piccolo paese e quindi anche questo appunto catalogo Keller molto interessante l'altra cosa stracarina sempre che avevo letto l'estate scorsa è bellissima copertina fra l'altro 16 parole di Nava Ebrahimi lei è un'autrice se non sbaglio tedesca ma per dire una cavolata aspettate che controllo esatto cioè lei vive in Germania da tantissimo tempo oddio non è vero a Graz perché sbaglio sempre e ha studiato in Germania e ha studiato a Graz ma è originaria di Teheran in questo libro suppongo un pochino autobiografico la protagonista Mona è appunto iraniana e vive invece in Germania lei ha vissuto tutta la sua vita in Germania forse è anche nata in Germania se non sbaglio ma ha la madre iraniana e praticamente dopo la morte della nonna inizia un po' per riscoprire alcune cose della sua famiglia un po' poi per il lavoro a viaggiare avanti e indietro fra la Germania e l'Iran e la cosa molto carina di questo libro è che è diviso in 16 capitoli che sono 16 parole in persiano che praticamente non hanno traduzione in tedesco e sono 16 parole che avvicinano Mona sia al suo passato che alla riscoperta del paese di cui la sua famiglia è originaria e quindi è molto carino perché ha anche tutta questa questione appunto della della lingua della lingua che è una cosa che si apprende certo ma è anche qualcosa che apprendiamo in modo innato cioè quando siamo quando siamo molto piccoli appunto viene come dire è instillata viene ascoltata e molte parole rimangono intraducibili poi nelle lingue che apprendiamo coscientemente da più grandi e un po' è la base di questo libro è molto tenero anche molto delicato appunto nel poi anche raccontare la la differenza fra queste due culture di cui Mona fa parte in in modo uguale cioè in lei ci sono entrambe ma poi farle coesistere all'esterno non è semplice di questo tema ne parliamo molto spesso appunto della dei conflitti della convivenza culturale sia all'interno della stessa persona quando deve coniugare le proprie radici magari lo stato la nazione di arrivo sia poi a livello più storico politico appunto quando abbiamo parlato di Israele e Palestina per esempio a tal proposito vi volevo segnalare altre due cose sempre scritti da autrici uno è un romanzo appena uscito per Clichy che ci è arrivato tagliato vabbè ma provvederemo a chiedere un'altra copia almeno Clichy ha varie cose molto belle fra cui un'ottima selezione di autori autrici francesi o comunque che scrivono in francese come Shumona Sinaha non so se si pronunci così lei è un'autrice indiana che scrive in francese perché vive a Parigi da molto tempo suo romanzo questo è il terzo suo non so se gli altri siano stati tradotti devo indagare si chiama Apolide in francese Apatride quindi chiaramente traduzione letterale del titolo senza patria e ha come protagonista non l'ho ancora letto appena arrivato tra l'altro devo chiedere un altro ma vabbè ha come protagoniste tre donne indiane che vivono in Francia per vari motivi e che in questo romanzo si incrociano e insomma si influenzano a vicenda le loro vite in qualche modo avranno dei punti di contatto quello che va a indagare questa autrice lo dice bene l'express che è stato messo ovviamente in quarta di copertina e dice la voce forte e lirica di una poetessa indiana trappiantata a Parigi capace di raccontare come forse nessun altro lo sradicamento lo spaesamento il disagio e la solitudine di chi vive una forma di esilio e ne ho letto un capitolo un capitolo vuol dire una pagina e mezzo perché ha dei capitoli molto molto brevi e devo dire infatti ho subito pensato questa è una poetessa oltre che una romanziera come vi dico ogni tanto secondo me i poeti hanno un un modo molto più scarno e molto più misurato di usare la lingua nel romanzo poi quando vanno a scrivere in prosa molto più netto come se continuassero ad affettare le parole come si fa poi in poesia di solito e questo si percepisce subito nella scrittura di Shumona Sinha e sono molto curiosa perché non la conoscevo ho visto che questo libro usciva l'ho ordinato l'ho trovato dal titolo e dall'editore perché Kishi è un'ottima garanzia e quindi poi lo sapete io sono molto attenta molto alla letteratura francese perché la leggo anche in lingua trovo che sia uno degli ambienti editoriali più vivaci sicuramente in Europa se non al mondo e quindi insomma vado subito a cercare queste cose qua e lo leggerò sicuramente appena riesco ovviamente perché infatti qui avete tutte cose che non ho letto ho letto un anno fa perché non stiamo riuscendo a leggere molto come vi dicevamo l'altra cosa e qui approfitto di una lettura invece di Deborah di cui invece mi vanto di avergliela segnalata si chiama Aspettate che Prudenti come serpenti di Lola, Sean e Seanane edito da 66 and Second copertina stupenda in realtà questo libro è uscito per 66 nel 2012 viene ripubblicato un po' perché 66 ogni tanto ripubblica con copertine nuove i suoi romanzi di catalogo per dargli nuova vita un po' come sta facendo Sellerio nonostante Sellerio abbia una storia molto più lunga ma anche perché credo esce una serie Netflix uscirà a breve basata su questo libro quindi giustamente viene rilanciato anche per questo motivo esce con una fascetta di Michela Murgia Lola Seanane è un'autrice nigeriana che ha studiato anche nel Regno Unito per poi tornare in Nigeria e il libro è un interessante spaccato di una famiglia tra virgolette famiglia non so come chiamarla poligama cioè c'è un marito che si chiama Baba Seji e una serie di mogli la storia comincia quando arriva la credo terza moglie che si chiama Bolalle che è eccezionalmente una donna istruita laureata e non è come di solito una ragazza che viene data in dote al patriarca ma è appunto una mosca bianca in questa comunità e quindi ecco è il racconto di questo di questo modo di vivere non saprei come chiamarlo in cui ci sono delle dinamiche molto particolari rispetto al nostro modo di vedere il rapporto uomo-donna Deborah l'ha trovato stupendo e lei non si esprime mai in modo cioè è molto obiettiva nelle sue valutazioni sui libri quindi se dice così è sicuramente un libro di valore e per questo ve lo segnalo mi dice anche che ci sono delle scene molto crude di violenza quindi attenzione ci sono delle scene che potrebbero disturbare e quello che però c'è tantissimo è uno spaccato del tema principale chiaramente è la condizione della donna il suo rapporto quotidiano con l'uomo e anche la condizione della donna verso la propria emancipazione verso le altre donne della famiglia e anche tanto il tema della maternità perché una delle cose che succede è il fatto che questa protagonista non riesce a rimanere incinta e invece di chiedere come sempre solo agli stregoni o comunque appunto alla medicina tradizionale nigeriana Babaseji decide di provare a vorrebbe rivolgersi ai medici ed è lì che scatta tutto l'intreccio quindi c'è anche poi questa dicotomia fra tradizione e scienza e quindi moltissimi piani il titolo originale è mi piace sempre fare questo confronto The Secret Lives of Babaseji's Wives quindi vite segrete delle mogli di Babaseji perché appunto questo voler chiedere aiuto ai medici rischia di svelare un segreto che le mogli stanno tenendo a Babaseji e al capofamiglia invece in italiano viene tradotto prudenti come serpenti ok direi che vi ho segnalato un po' di cose appunto non riuscendo tanto a leggere non ho una ricca scelta sto ascoltando tre piani anch'io forse lo diceva Paola l'altro giorno bellissimo letto da Adriano Giannini Alvaro Vacher e Margherita Bui uscirà presto spero il film di Nonni Moretti il libro di Escolnevò probabilmente voi l'avrete letto tutti e tutte noi ce l'avevamo insomma l'avremmo sempre tenuto lì non l'avevamo ancora letto nonostante sia ormai un classico della letteratura israeliana degli ultimi anni e lo stiamo ascoltando perché poi Paola ha detto è bellissimo di assolutamente sentirlo io stavo finendo una cosa dopo l'ho iniziato e devo dire che è super interessante sono a metà e poi vi dirò quando è finito anche se su quei libri che cavolo racconti cioè è impossibile da raccontare bisogna assolutamente leggerlo e farsi trasportare nelle psicologie dei personaggi ciao alla settimana prossima ah mercoledì 28 c'è Massimo Zamboni con la Torino Ferà qui di fronte alla libreria vi aspettiamo ciao ciao